Abbiamo avuto pochissimi contrattempi e quelli che abbiamo fuori sicuramente rientreranno nel giro di pochi giorni per cui siamo molto contenti, anche oggi abbiamo fatto una buona partita, abbiamo disputato una buona gara contro una squadra sicuramente forte di B, per cui è un ritiro che si è svolto in un certo modo, è finito bene, soprattutto una cosa che ho notato oggi e che prima mi mancava è che ho visto una squadra che ha cercato di migliorare certe carenze che aveva dimostrato in allenamento e nella partita contro il Bologna, quella di essere un po' più sbarazzina, propositiva e al tempo stesso di essere più battagliera, che oggi comunque si è vista anche una partita abbastanza impegnativa dal punto di vista agonistico, anche dei contatti, dei falli. Siamo sulla buona strada, però chiaramente non ci si può accontentare, non ci si può fermare su queste cose qua, poi dobbiamo lavorare nel far crescere singolarmente un po' di giocatori, soprattutto quelli più giovani e dobbiamo lavorare per cercare di inserire quei due o tre giocatori che sono importanti e che in questo momento passano fuori.